Dopo varie iniziative svolte negli ultimi otto mesi, l'associazione culturale La Bottega di Hamlin ha organizzato la prima edizione dell'Hamlin Fest, una rassegna che come punto centrale vuole fornire uno spaccato della scena musicale indipendente italiana, contornandolo con una serie di incontri, mostre e proiezioni. Il festival è organizzato in primis per dare risalto a delle band che rappresentano un po' i punti fermi dell'attuale scena musicale indipendente italiana. Poi ovviamente ci saranno gli stand delle etichette discografiche, stand delle associazioni, mercatini, ci saranno delle mostre, degli incontri con i musicisti, quindi l'idea era partire dalla musica e intrecciare anche una serie di cose, per esempio le proiezioni, la grafica, l'enogastronomia. L'idea era partire da quelle che sono le risorse del territorio sia in termini artistici che in termini di associazionismo che di produzione e fonderle assieme con il collante della musica indipendente. Quello di Macerata, nelle giornate del 22 e 23 maggio e quello di San Ginesio, nei giorni 24 e 25 maggio. Un coinvolgimento con le due amministrazioni molto importante, come ci spiega la vice sindaco Federica Curzi. L'elemento anche politicamente importante è che un'associazione riesce a fare perno per collegare due amministrazioni comunali e peraltro con l'occasione dell'AMLIN, il comune di Macerata e il comune di San Ginesio si sono anche gemellate su altre attività. Questo significa anche un po' recuperare un ruolo di città capoluogo per Macerata perché il vice sindaco di San Ginesio riconosce la peculiarità di Macerata capoluogo per essere appunto attraino di un successo di un'iniziativa giovanile, mondo universitario, insomma le cose che ci diciamo sempre. D'altro canto il comune di Macerata riconosce la sussidiarietà fondamentale dei piccoli centri così gioielli come sono.